Bentrovate cari amiche e bentrovati cari amici per un nuovo appuntamento di Rubini Immobiliare News, il podcast di Rubini Immobiliare per approfondire il mercato immobiliare delle nostre parti, insomma della Puglia, di Bari e provincia e qualche città ancora un po' più in là. Quest'oggi sono con uno dei titolari Gaetano Dalba, benvenuto. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Allora Gaetano, la notizia di questi ultimi mesi è l'abbassamento dei tassi, sostanzialmente la diminuzione del costo del danaro che quindi agevola, se non l'abbassamento quantomeno il fermo delle rate dei mutui, quindi matematicamente questo porta ad un maggior accesso, ad una maggiore facilità di accesso al credito e quindi di più persone che acquistano casa. Hai riscontrato questa realtà? Sì, sì, certamente. Così come quando ci fu l'aumento dei tassi, del tasso di sconto, un target di clientela non ebbe più la possibilità di accedere al credito perché il loro rapporto rata-reddito si alzò e quindi non era possibile per loro. Quindi hanno fatto, fecero marcia indietro. Ora invece tutta questa fascia di clientela sta tornando alla ricerca di immobili perché da giugno, così come ne stanno parlando in TV, dovrebbero, la BCE, ridurre di nuovo i tassi. Tant'è che se è riacceso l'interesse all'acquisto, soprattutto per quelli che hanno un reddito limitato e con questi tassi che si abbassano il loro rapporto rata-reddito rientra nei parametri e quindi possono accedere a un trentennale, e quindi ha degli importi sicuramente più alti, tali da poter acquistare l'immobile dei propri soni, cioè quello che risponde alle proprie esigenze. Nella nostra tradizione italiana ma anche meridionale, l'acquisto della casa è un pilastro anche nel mettere su famiglia, è un primo passo. Stai riscontrando con questa maggiore facilità di accesso al credito anche il cambiamento della tipologia di acquirente? Arrivano più giovani? Sì, 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 molti, molti più giovani, molti più giovani, diciamo in percentuale sono i giovani che si avvicinano a questo dell'immobile. Poi c'è ovviamente la famiglia che vuole migliorare la propria posizione abitabilità, quindi dall'immobile che negli anni si restringe perché la famiglia si allarga e quindi vendono l'immobile piccolo per acquistare l'immobile. Questa è la caratteristica delle compravendite che noi affrontiamo giornalmente, quindi la coppia giovane che punta all'immobile di 80 metri quella metratura che serve per accogliere... E che fa il paio con magari una coppia anziana o una persona rimasta sola che ormai si ritrova in una casa troppo grande. Certo, sì, sì, questo è un po' la caratteristica dell'immobile che oggi viene compravenduto o appartamento... È vero anche che oggi devo dire che l'immobile, il taglio più richiesto, cioè la consistenza più richiesta, oscilla tra gli 80 e i 90 metri quadri. Cioè quello è l'immobile più richiesto. Se noi avessimo centinaia di immobili da 90 metri quadri li venderemmo tutti. Ah, ok. Anche perché quel taglio tiene comunque il valore diciamo abbastanza contenuto. Ed è un trivani al massimo. Ed è un trivani al massimo. Quindi stiamo parlando di famiglie composte da una coppia e al massimo un bambino. Che poi è la linea, insomma, ormai la famiglia italiana tipica. L'abbiamo letto negli scorsi giorni che ormai in media c'è 1,2 bambini a famiglia e addirittura nei prossimi anni le coppie senza fili supereranno quelle con un singolo frigo. Che impatto ha questo sul mercato immobiliare? E se vi siete già fatti un'idea, ad esempio già da quello che ci stavi dicendo, immagino le grandi case siano sempre più difficili da vendere. Sì, infatti puntiamo a frazionarli, cioè indichiamo ai potenziali venditori chi ha queste metrature enormi di frazionale. Quindi farne da uno grande due. Quindi voi fate anche quest'opera di consulenza sull'immobile stesso, non è solo una vendita. Assolutamente, con i nostri tecnici interveniamo, riprogettiamo quell'immobile grande, lo dividiamo e lo trasformiamo in due unità un po' più, diciamo, in linea con la domanda. Anzi, in questo modo si riesce anche a realizzare di più, perché un immobile grande ha un valore al metro quadro rispetto a un taglio piccolo più basso. Quindi con due tagli piccoli riusciamo ad ottenere anche di più. Certo. Grazie Gaetano per essere stato con noi. Grazie a voi, alla prossima. Grazie a voi.